Buon mercoledì, primo marzo. Il Vangelo di Luca oggi ci presenta un Gesù triste, addolorato, deluso. Eppure ci sono tante folle che lo seguono, si accalcano. Nel nostro linguaggio contemporaneo diremmo che Gesù ha un buon appeal, un buon successo. Prima è già nei sondaggi, molti lo cercano, è un grande leader, senza alcun dubbio. Ma Gesù è triste, non è felice di ciò che sta accadendo, perché coglie in quelle folle che si accalcano l'indisponibilità a convertirsi, a vivere intensamente nella intimità quotidiana, nelle relazioni, nella concretezza degli stili di vita. Questo messaggio di salvezza che chiede di superare ogni forma di egocentrismo, di essere sequela del messaggio di Gesù, farsi testimonia e sequela del messaggio di salvezza. Sono folle che si aspettano, come spesso accade nel mondo della politica, il segno di un grande miracolo economico, di celebrazione della mondanità. Si aspettano i leader, forte, che garantisca sicurezza, respingimento nei confronti di chi è diverso. La garanzia della sicurezza è una cifra da sempre presente nella politica. Gesù è triste e molto arrabbiato. Usa parole forti nei confronti di quella generazione e di ogni generazione che si lascia andare all'attesa di un segno straordinario e non sa cogliere i piccoli segni della vita quotidiana che testimoniano la presenza di Gesù, che dobbiamo cogliere nell'altro, nel diverso, nel sofferente, in colui il quale ha trovato la mala sorte. Quella persona che chiede soccorso e noi giriamo la testa da un'altra parte, rivolgendoci alla somma presenza di un leader che trasforma la stessa dimensione religiosa in idolatria. Gesù coglie questo in quelle folle. Non è felice di essere cercato da quelle folle che non sono pronte e disposte a vivere l'elemento della conversione. Dal Vangelo secondo Luca, in quel tempo, dato che le folle gli si accalcavano attorno, Gesù cominciò a dire questa generazione è una generazione cattiva. Non stiamo parlando solo di quella generazione. Dobbiamo porre attenzione alla nostra generazione, alle molteplici generazioni che si susseguono nel corso dei millenni, perché non siamo disponibili ad ascoltare, a farci trasformare della parola di salvezza. Essa reclama un segno, ma non le sarà dato nessun segno, se non il segno di Giona. Il segno di Giona, che è il segno che chiama la conversione. Non è la promessa, quella di Gesù, di una vita migliore regalata, ma un invito a convertire cuori e menti per una vita migliore, per una vita santa, che vive nella dimensione della misericordia e dell'amore di Dio, quel Dio che riconosce Padre. Padre che ci rende fratelli e sorelle e abitanti un'unica terra, ma noi siamo una generazione cattiva. Come infatti Giona diventò un segno per i niniviti, così lo sarà anche il figlio dell'uomo per questa generazione. Giona chiede agli abitanti di Ninive di essere protagonisti di una disponibilità a farsi convertire. La regina del meridione si risveglierà nel giudizio insieme agli uomini di questa generazione e li condannerà. Sì, la regina che viene da lontano, dal meridione, dall'Etiopia, condannerà questa generazione, perché essa venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. C'è questa disponibilità di ascolto da parte di una regina che viene da lontano. Ed ecco, qui c'è più di Salomone. Gli uomini di Ninive si rialzarono nel giudizio insieme a questa generazione e la condannarono. Anche gli abitanti di Ninive, la città corrotta, che però ha ascoltato quanto Giona ha proposto loro, convertitevi, perché all'annuncio proclamato da Giona essi si ravvidero. Ravvedersi, questo è l'invito che fa Gesù a questa nostra generazione cattiva. Ravvediamoci, convertiamoci ed ecco, qui c'è più di Giona. C'è la presenza autentica del Signore, di Gesù, da cogliere nella pienezza della nostra esistenza quotidiana. Sono parole forti quelli che Gesù oggi esprime, sì perché anche i dottori del tempo, i sapienti, non sempre lo cogliere. La bellezza del messaggio di Gesù, il quale prima di tutto chiama la conversione. Stiamo vivendo il tempo della quaresima, un lungo cammino che attraversa il deserto della nostra esistenza. Ci porta alla soglia della liberazione, liberazione dell'angoscia della morte, consegna alla prospettiva della vita eterna, che passa sì anche attraverso la fatica, la sofferenza, ma noi siamo chiamati a cogliere gli infiniti piccoli segni quotidiani di questa presenza salvifica che chiede prima di tutto la nostra conversione. Se vogliamo essere una generazione buona e non cattiva, dobbiamo porre mano a un cambiamento radicale delle nostre vite e delle nostre esistenze. Siamo chiamate a convertirci nel significato autentico della parola, cambiare rotta, perché questo è il punto fondamentale. Dobbiamo cambiare rotta di fronte alle immani tragedie che vediamo tutti i giorni intorno a noi, figlie dell'ingiustizia, delle tragedie, terremoti, carestie, naufragi, tutto frutto della nostra autoreferenzialità, che non sa convertirsi, non sa cambiare rotta, avvolgere lo sguardo all'esterno verso il prossimo, operando un cambiamento profondamente intimo e radicale in noi stessi. Questo è il significato autentico di questa indignazione di Gesù di fronte a queste folle che si accalcano, ma che sono indisponibili e non sanno ascoltare l'invito alla conversione. Questo riguarda ciascuno di noi. Buona giornata a tutti.